Uffa, non so neanche cosa fare, neanche cosa guardare. Come non so cosa guardare? Guardiamo Lilli e il Vagabondo! Ciao, io sono Irene. Il film che vi consiglio è Lilli e il Vagabondo. Lilli è una cagnolina adottata di una famiglia. Invece il Vagabondo è un cane randaggio. La trama è di questi due cani che fanno un'avventura. Quando Lilli si perde e deve tornare a casa. Il film mi piace perché è molto romantico. Ci sono anche i cani che mi piacciono molto. Basta. La mia scena preferita è quando mangiano gli spaghetti perché c'è una canzone molto bella ed è molto romantica. Grazie a tutti.